Ciao ragazzi aggiornamento del negozio oggetti manca pochissimo al nuovo shop un bel like ozzo mi raccomando per supportare il canale il codice creatore è sempre attivo se lo usate taggatemi sui social per provare a vincere durante le lotterie e l'ultima cosa campanella attiva ragazzi perché domani alle 2 esce il video contest dove vi spiego un po' come partecipare e provare a vincere l'ascia del leviatano se eventualmente mai uscirà ragazzi ho i miei dubbi ce li ho poi domani comunque nel video lo spiego vediamo intanto adesso cosa esce dopo la rotellina allora andiamo innanzitutto all'inizio al principio invincible ancora sono tornati raga 2008 tutto il bundle 1500 la skin singola guardiamo velocissimamente le skin raga perché comunque ormai le conosciamo invincible eccolo qua poi abbiamo omni man con i suoi mantellini e il suo il suo brutto dorso decorativo e poi abbiamo atomive che vabbè insomma anche questa qua non è niente niente male ma non sono un boh non lo so raga anche l'hai due mantellini questa roba che fluttua dietro alla schiena poi c'è il bundle attrezzatura guardiani del globo 1800 tutte insieme prese singole sono 800 il piccone che fa questo sound qua normale normalissimo e palla velocissima 500 vbac invece il le motte eccola qua non si sa dove è andata a finire poi mazza di warwoman questa non so vabbè un suono anche questa qua abbastanza normale poi abbiamo le spade subatomiche queste invece fanno questo questo sound qua bella è carina l'animazione poi Lewis Hamilton è rimasto originale in evidenza son rimaste poi sirena qualcuno la la chiedeva eccola qua 1200 vbac due stili predefinito e poi quello noir bianco e nero stessa cosa per lo zainetto predefinito e bianco e nero il secondo stile vabbè questa raga è una super schiena poi c'è anche il terzo stile raga me ne dimentico sempre streetwear società eccola qua carino anche questo questo terzo stile qua aggiunto di recente ormai non è più tanto neanche tanto tanto recente asce xo che fanno un suono pazzesco secondo me raga però insomma i doppi picconi sono davvero brutti secondo me sempre 100 800 vbac tre stili il predefinito eccolo qua poi c'è quello di san valentino cuore pixelato e lo stile blu tecnologica tecnologia secondo me è il più è il più carino raga ci sta movimenti eleganti 800 vbac un bel balletto questo indubbiamente raga poi abbiamo canto marinaresco 500 vbac questo più persone lo fanno contemporaneamente più forte è il coro bello bello mi piace un sacco anche questo qua poi nella sezione pionieri abbiamo luci della ribalta 1200 vbac anche lei due stili predefinito e lo stile succo eccolo qua carina questa schiena raga non me la non me la ricordavo non lo so proprio non me la ricordavo ah lo zainetto sì però invece me lo ricordo abbastanza bruttino anche questo qua due stili primo stile predefinito e il secondo sarà succo esatto eccolo là niente niente di speciale sig invece uno solo stile 1200 vbac dietro la schiena però il fucilazzo eh dai ci sta ci sta questo zainetto lame agili invece 500 vbac fanno questo suono qui niente 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 di che manco loro tiratore infallibile 800 vbac skin classica maschio di sempre centro agganciato invece 500 vbac il deltaplano sempre dello stesso set diciamo stile distintivo invece fionda 800 vbac due stili predefinito e poi c'è quello bianco fionda anche questa qua una super skin classica poi predatrice della palude 800 vbac super bella raga questa prima o poi me la scioppo e abbiamo rex 2000 vbac uno stile la versione regola regalo secondo me è bellissima eccolo qua e poi lo zainetto rettile vabbè quello che è cubo fantastico 200 vbac si prova a smanettare con il cubo super cubo di rubik e poi abbiamo dorso 500 vbac è uscita due giorni fa è tornata anche oggi schianto terrestre 200 anche questa raga è tornata dopo tre giorni e acchiappa mosche non usciva dagli anni d'oro 2000 vbac dietro alla schiena abbiamo appunto l'acchiappa l'acchiappa mosche non lo so raga vediamo la versione lego ah la versione lego addirittura ha due stili esclusivo e base ebbè molto molto figo questo per la cresta però insomma è quello che è vitticcio lo strumento di raccolto 800 vbac poi abbiamo venere acchiappa volo acchiappa al volo eccolo qua anche questo deltaplano un po' diverso dagli altri almeno quello raga asch 1200 vbac due stili predefinito e quello infestato carino quello infestato raga dai non è male non è male ce lo prendiamo ce lo tiriamo lo zainetto invece striatura nera e non perderai neanche tempo a guardarlo attacco furtivo le spadine e la wrap nero vissuto non c'è il bundle sono solo i cosmetici separati tracci gem non so se hanno già aggiunto quelle nuove raga non me ne intendo le di gaga del festival e non so stupid love forse questa sì no c'era 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 ok gli strumenti sono quelli di ieri la sezione lego è sempre la stessa poi abbiamo il bundle di banderita x la roba la sezione di rocket race i livelli del pass il pass pass festival la crew di aprile il bundle dei guardiani della galassia e tutti gli altri pacchetti raga secondo di quelli che avete e quelli che non avete li trovate qua sotto ci fermiamo qui raga like mi raccomando se ne avete messo subito tutti i giorni in live dalle 3 o sul canale di ora o qua su youtube ciao ciao